Allo stadio Buitoni di Sansepolcro, agli ordini dell'arbitro Cattaneo di Civitavecchia e assistente Augello di Roma e De Angelis Roma, il Sansepolcro conquista un pareggio tutto sommato meritato per la squadra di Mezzanotti e soprattutto con la novità del rientro dopo alcuni mesi di Bracalenti. La partita è una partita equilibrata e di buon ritmo prevalentemente a centrocampo all'undicesimo del primo tempo c'è una bella azione di Tavernelli, Piccinelli e Susi che tira ma è segnalato in fuorigioco squadre molto attenti a non scoprirsi con un pressing molto alto di Ghivizzano al sedicesimo del primo tempo c'è un gol annullato per fuorigioco dopo un'azione Susi, Tavernelli, Piccinelli e con Susi che dalla destra la insacca alla palo destro del portiere, gol annullato dall'arbitro al trentesimo del primo tempo su angolo di Beati, colpo di testa di Marinelli e parata del portiere Fontanelli ha dato di nuovo un gol a Canji ed è il secondo gol annullato dall'arbitro il primo tempo termina sul risultato di 0-0 da segnalare le due reti annullate dall'arbitro Cattaneo ma complessivamente è il risultato meritato il Sansepolco sostituisce nel secondo tempo il numero 20 Barbaglia al posto di Tavernelli la partita scorre molto corretta con le due squadre che giocano prevalentemente a cento campo urlacci di mezzanotte che invita i suoi giocatori a stare tranquilli e a muovere velocemente la palla la partita si infiamma al ventitresimo del secondo tempo richiesta di un fallo di rigore su Taddeucci da parte di Canji ma l'arbitro fa proseguire gol del Ghivizzano al ventottesimo del secondo tempo in contropiede con Pagano appena entrato in contropiede che infila alla destra del portiere Matteo Vadi 1-0 per Ghivizzano ma al trentanovesimo del secondo tempo il Sansepolco pareggia su angolo di Marinelli e Sussi colpisce di testa alla destra del portiere espulso Mei del Ghivizzano per proteste la partita si scalda con Bracalenti che salda due uomini dopo una triangolazione con Chiasserino tiene un calcio d'angolo che Marinelli non spreca e mette in difficoltà la difesa del Ghivizzano la novità sono il rientro al gol di Sussi e l'ottima partita con il rientro di Bracalenti grazie a tutti